Calcestruzzi Casale, impresa di costruzione e movimento terra, specializzata anche nella fornitura di conglomerato cementizio e vituminoso. Calcestruzzi Casale SRL, Cervinara, via Cardito 10. Informazioni e contatti chiamandolo 0824 83 15 58 o scrivendo a eccasale at tin.it Io direi di aggiornarci con questa assemblea, intanto proprio per far venire fuori pure eventuali interessi sul territorio di gruppi imprenditoriali o quant'altro. Se sono d'accordo, questa proposta non l'ho nemmeno concordata con la dirigenza. La dirigenza in questo momento, io propongo, si presenta a divisionaria. Si fa un comunicato, la società è divisionaria per cui si apre a eventuali persone o gruppi o cortate che vogliono rilevare la squadra. Non c'è più una società da stasera. Però è nello stesso tempo, e questo perché? Per trovare, non per trovare la giustifica, per capire anche a futura memoria che effettivamente non vi era alcun interesse. Perché è chiaro ed evidente che se nessuno risponde o si fa avanti, non ci può essere poi una persona che fra tre mesi diceva, vabbè io vi portavo da quello oppure ci stavano 60 mila euro pronti. È giusto questo anche per rispetto nei confronti dei difusi. Nello stesso tempo, poi guardassi che mi trovo sbugiardato su questo, ben venga che qualcuno si faccia va, con un lasso di tempo immediato, non so, di due, tre, quattro giorni, dopodiché nello stesso tempo invito la società, comunque, nell'ipotesi che non ci sia alcun interesse, a descrivere la squadra, così come diceva Franco, con un progetto purtroppo ai miei ridimensionato, un gruppo di giovani con qualche colonna nei ruoli fondamentali, un minimo di struttura, tre, quattro persone, tre, quattro carciatori della vecchia guardia, ed è un progetto che pensiamo, ne parlavo prima pure con il Presidente, di onorare fino alla fine.